Caro Gabriele, grazie per avermi nominato. Pensavi che non avessi accettato la sfida, eh? E invece no! Eccomi qua, pronta ad accettare la tua sfida. Appena ho avuto un attimo di tempo, mi sono messa qua e mi sono ripresa. Dopo che avrò acceso la musica e che avrò ballato, vi dirò quali sono i miei nominati. Grazie per aver guardato il video. 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 Bene, allora aprite bene le orecchie perché i miei nominati sono Nisha Sara, Valentina Erzebet e Natalia Rizik. Quindi, badate bene che se non fate anche voi questo video, me la pagate la cena, eh!